Musica Fatture false e dichiarazione fraudolenta sequestrati i beni per oltre un milione di euro hanno additta sannita. Dato alle fiamme afforchia un container per la vendita di panini e bibite, indagini in corso. Raide contro un centro a scommesse di Napoli caccia agli autori, forse un atto intimidatorio. Medico aggredito al CERT, l'Astra di Benevento costituisce un gruppo multidisciplinare. Emisso oggi il terzo francopollo italiano per padre Pio per ricordare il cinquantenario della morte di San Pio da Pietrelcino. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati. L'abbiamo appena sentito, operazione della Guardia di Finanza in provincia di Benevento, sotto la lente fatture false e dichiarazioni fraudolente sequestrati i beni ad una ditta sannita. Avevano costituito ditte individuali e società cartiere, ma anche aziende filtro operanti in diversi circondari, con lo scopo di ostacolare la diretta connessione con l'effettivo cessionario della merce e quindi beneficiando della frode. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Tribunale del Capologo all'esito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica per un valore di 1.157.865 euro relativo a depositi bancari, titoli bancari, beni mobili ed immobili nella disponibilità di una ditta individuale operante nel settore del commercio di bancali di legno, avente sede nella provincia sannita. Le attività investigative, ha spiegato il Procuratore Aldo Policastro, sono iniziate a seguito di una verifica fiscale avviata nei confronti di una ditta individuale che ha assunto il ruolo di azienda filtro in una filiera commerciale dedita all'emissione di utilizzo di fatture false per oltre 4 milioni di euro e ha permesso di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La complessa indagine che si è conclusa, il provvedimento di sequestro emesso per i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha riguardato le posizioni fiscali di numerose imprese operanti, oltre nel territorio sannita, anche nelle zone salernitane e pugliesi, alcune delle quali risultate nelle mere cartiere intestate a prestanome, tutte partecipi dello stesso disegno criminoso finalizzato alla frode fiscale. Le investigazioni iniziate nel 2017 hanno permesso di ascrivere l'ipotesi fraudolente al sistema del carosello fiscale attuato tramite triangolazioni fra le società coinvolte al semplice scopo di evadere l'IVA e le imposte sui redditi nel settore del commercio dei bancali di legno, destinati alla grande distribuzione, nonché al commercio al dettaglio. Sono in corso di verifica presso vari istituti di credito sistematiche operazioni di ricerca finalizzate all'individuazione di disponibilità bancarie e finanziarie che saranno sottoposte a sequestro sino alla concorrenza del tributo evaso. L'indebita percezione di indennità previdenziali per 2 milioni di euro circa e l'emissione di fatture per prestazioni inesistenti per un ammontare complessivo di circa 20 milioni di euro sono stati scoperti dai carabinieri. I militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato 6 persone con l'accusa di truffa aggravata ai danni di IMSS e agenzia delle entrate. Nell'inchiesta inoltre risultano indagate 45 persone che sono state raggiunte da misure cautelari reali di sequestro preventivo per equivalente per complessivi 7 milioni di euro. Dato alle fiamme, nella tarda serata di mercoledì afforchia un container adibito a vendita di panini e bibite in via della pace nei pressi della sala assemblee della congregazione cristiana dei testimoni di Geova. Secondo una prima ricostruzione, maleviventi hanno effettuato un foro in una parete del prefabbricato metallico attraverso il quale avrebbero poi versato del liquido infiammabile ed innescato le fiamme. A far scattare l'allarme sono stati dei residenti della zona che hanno notato il rogo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, del distaccamento di Bonea e i carabinieri della compagnia di Montesarchio. Raid contro un centro scommesse di Napoli e caccia agli autori. Forse si è trattato di un atto intimidatorio e si valuta la presenza nell'attività di pregiudicati. E caccia agli autori del raid camorristico di mercoledì sera contro una sala scommesse di via Pietro Colletta nel quartiere di Forcella a Napoli, nel quale è rimasto ferito ad uno zigomo il figlio 13enne del titolare che si trovava all'esterno del locale. Più che una classica stesa, spari all'impazzata di baby gang per affermare la supremazia sul territorio, sembra essersi trattato di un vero e proprio atto intimidatorio. In due sono arrivati a bordo di uno scooter. Il passeggiaro ha sparato, esplodendo contro l'ingresso del locale. Sei colpi di pistola. Uno di rimbalzo ha colpito il ragazzo che si trovava all'esterno insieme con la madre. Per fortuna nessuna conseguenza più grave per il giovane. Momenti di terrore, con un fuggi-fuggi generale delle tante persone che si trovavano nel centro scommesse nella serata di Champions. Il titolare non ha niente a che vedere con la criminalità e ha spiegato di non aver ricevuto minacce. Le indagini vanno in ogni direzione e si punta anche a capire se nel mirino ci fosse qualche pregiudicato che si trovava nel locale. Due settimane fa, non lontano, in via Vicaria Vecchia, una donna di 50 anni che era affacciata al balcone era stata colpita durante una stesa. Accoltellarono un minorenne lo scorso mese di dicembre. All'uscita di un pub arrivano altri due fermi della polizia. Sentiamo. Due giovani di 18 e 17 anni, fermati oggi dalla squadra mobile della Questura di Napoli, facevano parte del branco di otto ragazzi che il 9 dicembre scorso aggredirono ed accoltellarono nel quartiere Vomero un minorenne che insieme con quattro amici era appena uscito da un pub. Il giovane si salvò grazie ad un delicato intervento chirurgico. A marzo scorso vennero eseguite quattro ordinanze cautelari a carico di minori e un fermo a carico di un maggiorenne. A giugno, altra misura cautelare restrittiva fu eseguita nei confronti di un altro maggiorenne. Dalle indagini coordinate dalla Procura dei minori è emersa, sottolinea la Questura, l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere composta da diversi minori il cui obiettivo era di affermare la propria supremazia nel quartiere Vomero, avvalendosi di minacce e spedizioni punitive armate senza risparmiare aggressioni fisiche per lo più nei confronti di coetanee che affollano il quartiere, soprattutto nel fine settimana. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito per il ride a colpi di sassi contro un autobus dell'ANM, l'azienda napoletana No Mobilità, nella serata di ieri a Napoli. Il conducente del mezzo all'altezza della riviera di Chiaia ha bloccato l'autobus dopo aver udito il rumore della rottura di un finestrino provocato dal lancio di un sasso. Il mezzo era particolarmente affollato nella serata festiva di San Gennaro, patrono della città. Il sasso ha spaccato un vetro laterale sul posto e è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. Hanno comprato biglietti online dichiarando di essere minorenni per assistere a Torino-Napoli del 14 maggio 2017 senza essere riconosciuti in caso di tafferugli. Per questo episodio 29 tifosi napoletani del gruppo organizzato Brigata Carolina sono accusati di sostituzione di persona in concorso. Nella notte a Bisaccia è stato tentato un furto presso la filiare della Banca Popolare di Bari. Dei malviventi con un artigianale ariete in ferro hanno tentato di sfondare la vetrata laterale dello sportello ATM Sterlo. Ma l'intento criminale non si è concretizzato. I delinquenti sono stati costretti ad una precipitosa fuga prima dell'arrivo dei carabinieri della locale stazione della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che hanno eseguito ovviamente una serie di rilievi tecnici per l'identificazione dei responsabili. Indagini dunque in corso. Erano intenti alla solita attività di parcheggiatori abusivi. Due beneventani beccati dal personale della scuola a volante nella tarda mattinata di domenica. I due sono stati sorpresi mentre si avvicinavano agli utenti con un blocchetto numerato cercando di simulare di essere addetti al controllo dei parcheggi. Per loro sono scattate così le sanzioni amministrative con il conseguente sequestro del denaro riconducibile all'attività illecita. Cambiamo pagina. L'Astra di Benevento costituisce un gruppo multidisciplinare. Lo ha reso noto il direttore sanitario Vincenzo D'Alterio che ha preso parte al Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza in Prefettura dopo l'aggressione di martedì scorso di una dottoressa del CERD. Sentiamo. Il direttore sanitario dell'Astra di Benevento, Vincenzo D'Alterio e la dottoressa Ilena De Gennaro, referente rischio clinico aziendale hanno partecipato al Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza che si è svolto presso la Prefettura di Benevento. Al centro della discussione è la sicurezza degli operatori sanitari un tema attuale soprattutto dopo l'episodio di martedì scorso che ha coinvolto una dottoressa in servizio presso il CERD di questa azienda. Abbiamo portato a conoscenza del tavolo tecnico, ha dichiarato D'Alterio di aver costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare per la prevenzione e la gestione di atti di violenza sugli operatori che formalizzeremo nei prossimi giorni. Il team potrà proporre la formazione, revisionare le procedure eseguite, suggerire le modalità del sostegno psicologico agli operatori oggetto di violenza e aprirà uno sportello di ascolto con lo scopo di captare segnali sentinella in grado di scongiurare casi come quello di martedì. All'interno del gruppo anche il presidente dell'Ordine dei Medici, Giovanni Pietro Ianiello. Esprimiamo a concluso il direttore sanitario la nostra vicinanza alla dottoressa aggredita e a tutti gli operatori. Come azienda lo ribadiamo, prendiamo le distanze e stigmatizziamo qualsiasi atto di violenza. L'indagine interna che abbiamo disposto ci aiuterà, conclude, a chiarire le singole responsabilità e ad agire di conseguenza. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Napoli, Rosa Molè, ha respinto il ricorso presentato dall'ex primario del reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale del Mare, Francesco Pignatelli, contro la revoca dell'incarico in quanto ritenuto responsabile dai vertici dell'ASL Napoli 1 Centro di aver illecitamente trasferito i pazienti e chiuso il reparto lo scorso mese di luglio in concomitanza con una serata di festa. Giustizia per i padri separati, la protesta nell'agronocerino sarnese, sentiamo gli sfoghi dei protagonisti. Sono storie simili che hanno un unico comune denominatore alla fine di una relazione d'amore che ha poi il suo epilogo davanti ad un giudice che deve decidere anche della sorte dei bambini nati da un matrimonio che molto spesso diventano ostaggi di un fallimento sentimentale. Questa mattina alcuni papà che hanno difficoltà di contrarre i loro figli hanno protestato davanti al tribunale di Nocera. Fanno parte dell'associazione Padri Separati, fuori dal silenzio. Tutti raccontano la loro storia fatta di denunce, impossibilità di vedere bambini oppure davanti alle assistenti sociali ed ancora le mamme che cercano di ridurre il più possibile queste relazioni genitoriali. Il Presidente del Tribunale li ha incontrati. Se questi papà hanno le carte in regola e non sono persone violente e non sono persone con problemi, hanno il sacrosanto diritto di stare con i propri figli al pari delle madri, questo è il mio appello, questo è quello che dirò al Presidente del Tribunale che ci riceverà. Non parlerò di me, non parlerò di altri, parlerò del problema in generale che il Presidente possa riunire tutti i giudici della sezione civile di Nocera Inferiore e sensibilizzarli su questo problema. Ci sono tempi biblici per le udienze e nel frattempo nemmeno i papà aspettano, i bambini aspettano di vedere i propri papà. La legge, la 54 del 2006, che parla dell'affidocondiviso, che è un'ottima legge. Questa legge io non posso dire che i giudici non la applichino. Noi abbiamo provvedimenti che, non nel mio caso, è stato prima e lo spero sarà dopo, ma in tanti casi di altri papà dove sono previsti diritti di visita per quattro volte a settimana. Il problema, lo sa dove sta, il problema è che non vengono temperati. Quindi le madri non accompagnano i bambini a casa del padre, millantando malesseri dei bambini. Quindi a quel punto i diritti di visita si riducono allo stretto, i figli non li riconoscono più i propri papà. E' questo lo scempio che deve finire. Sono diritti che sono messi solo sulla carta. È messo sulla carta il mantenimento, è messo sulla carta il diritto di visita, è messo sulla carta la scolarizzazione. Non decidiamo nulla e siamo stanchi, perché questi bambini hanno il nostro cognome e hanno il diritto di crescere tanto con la mamma quanto con il loro papà. Forse una soluzione al traffico c'è. Nel Salernitano arriva l'Akramir. Scopriamo di cosa si tratta. Il servizio. Si chiama Akramir, acronimo di Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti. E' un ente strumentale della Regione Campania e potrebbe essere la soluzione al traffico di nocere inferiore e dell'agro in generale. E' un'agenzia di supporto alla Regione, alle province e dai comuni della Campania nella gestione del processo di pianificazione degli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci. Non studia propriamente traffico e viabilità, ma potrebbe dare validi suggerimenti a come implementare gli strumenti necessari per farlo. Potrebbe essere dunque l'alternativa Sittagma, la società che in passato ha realizzato il piano urbano della mobilità e che a giugno è stata ricontattata dal comune di nocere inferiore per valutare una revisione della viabilità in città. Finora non sono arrivate proposte, probabilmente perché si attende che si completi il quadro della viabilità cittadina. Nel giro di qualche settimana dovrebbe riaprire il ponte di Via Cuomo, almeno stando alle dichiarazioni dell'amministrazione. Inoltre entro la fine dell'anno dovrebbe essere aperto il varco che collega Via Napoli a Via San Pietro, riducendo notevolmente il giro del quartiere Cicalesi. In questi giorni l'assessore alla mobilità e trasporti, Anarita Pagliara, sta compulsando l'ufficio tecnico perché si vada presto al progetto definitivo. Ulteriori accorgimenti richiesti a gran voce, dunque dai residenti costretti a subire lo smog e dagli automobilisti che trascorrono ore incolonnati nel traffico, soprattutto in concomitanza con l'entrata e uscita da scuola. Aspetti che incidono non solo sulla qualità della vita dei cittadini nocerini, ma anche su chi è di passaggio in città per servizi o shopping. A otto anni dall'assassinio, Teresa Bonocore, la madre Coraggio, che denunciò abusi su una delle due figlie, è stata ricordata con una cerimonia pubblica alla quale hanno preso parte all'unni delle scuole nel cimitero di Portici, la città nella quale viveva. Una lapide a lei dedicata è stata scoperta dal sindaco Vincenzo Cuomo all'interno dei giardini cimiteriali. Teresa Bonocore, lo ricordiamo, morì la mattina del 20 settembre 2010 in via Ponte dei Francesi a Napoli. L'omicidio scosse profondamente la città vesuviana che organizzò all'indomani dell'episodio una fiaccolata nelle strade principali. Cinquantesimo anniversario della morte del santo e cento anni dalle prime stimmate. Due ricorrenze importanti per il santo di Perelcina, Sampio per l'occasione dedicato al frate, anche un francobollo. Vediamo. Il cinquantenario della morte di Sampio da Pietrelcina è stato ricordato oggi con l'emissione di un francobollo italiano, valido per la posta ordinaria interna, indicata con la lettera B corrispondente a 1,10 euro. La vignetta del francobollo, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, competente in materia, raffigura Padre Pio mentre solleva un calice durante una celebrazione eucaristica. Stampato in calcografia, il francobollo è stato emesso con una tiratura di un milione di esemplari. La nulla speciale, primo giorno di emissione, è stato apposto a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Si tratta del terzo francobollo italiano dedicato a Padre Pio. Il primo, del valore di 200 lire, fu emesso nel 1998 per il trentesimo anniversario della morte del religioso. Il secondo aveva un valore di 41 centesimi di euro e venne emesso nel 2002 in occasione della canonizzazione. Sono due giorni importanti che, tra oggi e sabato 23 settembre, saranno celebrati in memoria di San Pio. Oggi ricorre infatti il centenario della comparsa delle stimmate del frate di Petrelcina, mentre il 23 settembre cade proprio il cinquantesimo anniversario della morte del Santo. Siamo alla pagina sportiva e Massimiliano Irrati di Pistoia, l'arbitro designato a dirigere Torino-Napoli, anticipo delle 12.30 della quinta giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 23 settembre. Il posticipo di domenica, Frosinone-Juventus, è stato affidato invece a Piero Giacomelli di Trieste, mentre Bologna-Roma sarà diretta da Davide Massa di Imperia. L'anticipo di sabato sera tra Samp e Inter è stato affidato a Marco Guida di Torre Annunziata, mentre Sassuolo-Empoli di venerdì sarà diretta da Federico Lapenna di Roma 1. Ancora seriane, su una pausa per il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo la deludente gara di Belgrado per pensare già alla sfida contro il Torino della prossima domenica. A Castelvolturno c'era anche Aurelio De Laurentiis, il presidente azzurro è rientrato con i calciatori e ha raggiunto sorridente Castelvolturno per alcune riunioni sul centro sportivo. Serie B avversari difensivi e compatti, una partita da non sottovalutare per Mr. Bucchi. Il tecnico degli stregoni presenta la sfida con i cugini della Salernitana. Sentiamo le sue parole. La Salernitana è innanzitutto una squadra molto forte, un ottimo organico, un allenatore molto bravo, con grande esperienza, hanno iniziato questo campionato nel migliore dei modi perché hanno fatto delle buone gare, degli ottimi risultati e credo che verranno qui anche con il supporto oltre che dei loro tifosi, anche dell'entusiasmo dell'ultima partita giocata perché hanno fatto un'ottima gara, una vittoria meritata e quindi credo che affronteremo un avversario forte. Mi aspetto una partita difficile come tutte le partite ma mi aspetto di vedere un grande Benevento che giocherà con grande qualità, con grande cattiveria perché una delle caratteristiche dei nostri avversari è proprio questa, la grande compattezza, il saper difendersi, chiudersi bene, chiudere gli spazi e anche saperare in maniera ovviamente sportiva l'aspetto agonistico quindi dovremmo essere bravi a saper pareggiare l'aspetto agonistico della gara e a giocare con grande qualità e con grande intensità cosa che deve far parte di noi e del nostro percorso è vero che abbiamo giocato poco però mi aspetto da questo punto di vista conferme di quello che ho visto a Singhiozzi fino a questo momento l'ho visto per 30 minuti finali con Lecce, i primi 60 minuti di Venezia speriamo di riuscire a mettere insieme e fare una partita intera Il calcio Avellino cede il passo al Nola nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D Bianco Verdi eliminati da un gol di esposito al quarantesimo minuto del primo tempo che ha regalato la qualificazione al primo turno ai partenopei ora attesi dalla trasferta sul campo del Sorrento Mister Graziani nel dopogara ha parlato così A me queste partite qui mi servono prima di tutto perché non le abbiamo mai potute fare in precampionato non abbiamo potuto valutare se questa squadra qui andando incontro a delle difficoltà come poteva reagire stasera l'abbiamo visto nello stesso tempo ho voluto io durante la partita forzare una situazione per riprendere il risultato ma in questo momento qui la mia squadra per il nostro tempo di lavoro che abbiamo occupato finora non è ancora in grado di cambiare le corde di quello che facciamo questa qui è stata una forzatura voluta mia e all'interno di questa forzatura poi sono stati fatti degli errori sia tecnici che tattici che di lettura che poi da domani ci servono a noi per andarli ad analizzare mi è servita tantissima per capire tutti quanti perché fra domenica ed oggi ho potuto valutare tutta la rosa che ho a disposizione e quindi da oggi ho ancora di più abbiamo ancora di più un valore certo di tutta la rosa che abbiamo a disposizione era questo l'ultimo servizio io vi ringrazio per l'attenzione vi lascio in compagnia delle prisioni del tempo e con il resto della nostra programmazione arrivederci vi ringrazio per l'attenzione ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsioni per venerdì 21 settembre altra giornata calda con tanto sole su buona parte dell'italia anche se insisterà il maltempo sulla sardegna e i temporali sui rilievi centro meridionali vediamo insieme il dettaglio elaborato da ilmeteo.it al nord ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso salvo per foschie al primo mattino sulla pianura padana centro occidentale al centro prevalenza di sole ma tempo instabile sui rilievi appenninici e in particolare su quelli tra Lazio, Abruzzo e Molise contemporali nel pomeriggio maltempo invece sulla sardegna spostiamoci infine al sud sulle nostre regioni peninsulari è prevista una nuvolosità irregolare con temporali pomeridiani sugli appennini e sulla Sicilia settentronale centro orientale i venti soffieranno con debole intensità a rotazione ciclonica intorno alla sardegna diamo uno sguardo infine alle temperature previste sostanzialmente stazionarie le minime saranno comprese tra 14 e 22 gradi un po' su tutte le nostre regioni per quanto riguarda invece le temperature massime prevediamo fino a 31 gradi al nord punte di 32 gradi al centro e fino a 30 gradi sulle regioni meridionali grazie grazie grazie